Va bene, comunque siamo qua stamattina con Andrea, formatore, esperto di materie organizzative, di diritto del lavoro, di nuove normative, peraltro direttore dell'Accademia della Scuola Professionale d'Orsi di Varese. Stamattina ci ha erudito sulle novità dell'apprendistato e credo veramente sia una cosa sul quale dovrebbero informarsi a questo punto tutte le aziende, soprattutto saluto e conciutore del centro estetici perché è un'opportunità incredibile. Ci hai detto parecchie cose interessanti, secondo te ce la fa il mercato italiano e le imprese italiane questa volta è la volta buona oppure hai qualche dubbio? Direi di sì, non solo si può fare ma si deve fare, la possibilità di sfruttare quelle che sono le capacità migliori del nostro sistema, quindi quello che compone il cosiddetto Made in Italy, e che per la prima volta può avere un riconoscimento anche a livello formale di titolo di studio. Quindi il nuovo apprendistato che è in vigore dal 28 di dicembre in Lombardia, per la prima volta dà la possibilità all'azienda di riconoscere un titolo di studio, quindi fare in modo che la professionalità delle aziende significhi anche dare un diverso titolo di studio alle persone. Di solito l'osservazione che si fa è sì, sarà complicatissimo, sarà impossibile da portare avanti, insomma noi imprenditori sempre sotto stress, questa volta l'apprendistato è fattibile solo attraverso logiche difficili o è veramente comprensibile e tutte le aziende volendo possono percorrere questa strada? È una sfida, ma come tutte le sfide è accessibile, direi non da tutti, ma potrebbe essere un bene anche questo. È un bene che il titolo di studio, la formazione, la professionalità la diano soltanto le migliori aziende. Di migliori aziende, di aziende buone, ce ne sono tante in giro, quindi direi che la prospettiva di lavorare con l'apprendistato è molto interessante. Quindi ancora una volta una sfida, un cambiamento e dunque anche le aziende potrebbero qualificarsi, professionalizzarsi nel dare formazione. In Accademia a BOSS e soprattutto alla Scuola Professionale di Dorsi a Varese sono temi che sono quotidiani, affrontati quotidianamente. Ci sono delle proposte formative molto interessanti da questo punto di vista, per cui seguiteci sui social network ed eventualmente suggeriamo partecipare a questi corsi perché è veramente un'opportunità. Grazie Andrea, grazie a tutti, alla prossima. Ciao.